In realtà tutti i movimenti che portano avanti poi democrazia diretta e un modello alternativo a questa Europa che ci sta impoverendo, ma avete visto i dati macroeconomici in Grecia? Tre cittadini su cinque hanno già oltrepassato la solita povertà. E noi reputiamo, io reputo, che la Grecia sia proprio un topo da laboratorio, cioè la Troica cerca di vedere quali effetti fanno in Grecia una serie di politiche e sta analizzando il punto di rottura, cosa che ancora non c'è stato. Cioè la popolazione mi sembra in questa fase molto molto depressa. Obiettivamente Siriza può dare uno scossone, a patto che rispetti i programmi, se rispetterà davvero i programmi, c'è una serie di interventi nello Stato sociale fondamentali per la Grecia di oggi. Come voi sapete ci sono persone che si riscaldano, non so se avete letto, due settimane fa delle persone sono morte perché si cercavano di riscaldare in macchina. Ecco, per rispettare i programmi, per forza l'uscita dall'euro ci deve essere, per forza. Poi io personalmente penso che l'uscita dall'euro ci possa essere nel momento in cui ci sarà una coalizione importante dei paesi nel sud Europa. Dovete sapere che tutti i paesi del sud Europa, assieme alla Francia, le economie sommate rappresentano la terza economia a livello mondiale dopo Cina, che pare abbia superato gli Stati Uniti e gli Stati Uniti. Pensate quanto un'unione di questi paesi, anche in chiave anti-euro, una moneta alternativa, possa comunque supportare e affrontare uno shock che i mercati diranno perché i mercati faranno la guerra, in ogni modo.